Due bambini erano fermi al parco che stavano giocando Allora fa uno dei bambini all'altro Sai, sai, oggi, eh, oggi mangio crostata a cioccolato Che beeeella crostata a cioccolato, e come mai? E' perché mia mamma piace tanto la Nutella A tua mamma ci piace la Nutella? Risponde l'altro bambino Ma non lo so, però sono sicuro che ci piacciono i pigiami Ci piace leccarli Come leccarli? E' perché ho sentito a mia mamma che diceva a mio papà Togliti il pigiama che te lo recco Ui, 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 ui